Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video e benvenuti di nuovo su Polvere e Fumetti, la vostra rubrica settimanale preferita in cui vedete diventare povero ogni settimana di più. Vedete che la grafica, comunque la visuale ancora è sempre bella perché ho deciso di sfruttare molto di più il telefono rispetto a questa videocamera un po' scrausa, appunto testare anche un po' i video un pochino più montati. Dicevo eccezionalmente di giovedì perché stasera andrò a vedere gli animali fantastici dove trovarli, mi piacerebbe domani già pubblicare un video sulle mie impressioni a riguardo perché ho una discreta opinione prima ancora di andare a vedere questo film, ma appunto ne vorrei parlare appunto domani nel video che vorrei pubblicare in giornata. Quindi oggi siamo qui di nuovo con Polvere e Fumetti e non perdiamoci in ciance, cominciamo subito. Cominciamo subito come al solito, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link per acquistare questi ed altri fumetti ad un prezzo scontato su Amazon, ho visto che ho fatto un gesticolio mostruoso, appunto però direi di cominciare subito col Giappone. Per cui è uscito il volume unico di Black Museum Springald pubblicato da Star Comics al prezzo di 6,90€. Questo appunto è un volume unico dedicato a questa serie, questa mini serie scritta e disegnata da Katsuhiro Fujita mi pare, esatto, autore anche di Ushu e Tora, di Mula Ita. Tra l'altro proprio di Ushu e Tora sono usciti finalmente anche in fumetteria i primi due numeri della serie, quindi non avete più scusa, andate a recuperare appunto anche questa serie, che è una degli shonen generazionali più importanti di sempre e appunto sono anche usciti questo numero qua di Springald e mi pare a breve uscirà anche il primo di una mini serie di due numeri sempre dedicati appunto a Black Museum. Tra l'altro l'edizione è molto simile a quella che fu della GP Publishing, tant'è che il prezzo è uguale, cambia soltanto praticamente la qualità della carta che in quella della GP era molto più grosso e il volume sembrava molto più grosso, ma appunto l'edizione è pressoché identica. E poi il numero 12 per la nuova edizione di Guns, al solito prezzo di 4,50€, in cui inizia un nuovo arco narrativo, meglio continua l'arco narrativo a cui ci eravamo praticamente fermati il numero precedente, ma dai, e appunto i nostri ricominciano a giocare a questo giocone così perverso, così maato di questa pallona Guns. Questa settimana devo dire che più che la fumetteria mi ha un po' diciamo messo in ginocchio la libreria perché ho ceduto a un paio di acquisti, la prima è una novità di cui parliamo subito, la seconda è invece una specie di recupero perché è una cosa che è uscita un paio di mesi fa, mi pare, e che appunto ho trovato in libreria e erano scontati e ho detto vabbè li prendo e li provo. Il primo di cui parliamo è il nuovo libro di GP, La terra dei figli, pubblicato da Cocconino al prezzo di 19,50€. Io di GP ho letto pochissimo, anzi ho letto soltanto il primo numero degli omnibus che uscirono sempre per Cocconino, che pubblicò questi bellissimi omnibus a 10,90€ mi pare, appunto dedicati due a GP e uno ai 5 leghi ragazzi morti. Lei si è il primo di GP e devo dire che non mi piacque moltissimo, anzi non mi interessò quasi per nulla, quindi pensai che fondamentalmente GP non facesse per me, appunto e basta. Da quando è uscito La terra dei figli io non sento parlare d'altro, io sento solo gente che lo elogia, dice che è bellissimo, dice che è una storia fantastica e diciamo spinto più che altro dal parere di un mio compagno di fumetteria, di un ragazzo che mi seguo anche su YouTube che saluto, ciao Matteo, appunto mi sono convinto, ho voluto recuperarlo, vediamo un po' come sarà, se non mi piace Matteo te lo tiro sul coppino e appunto sono, non lo so, avevo questa cosa qua, ho detto proviamo a vedere se non dovesse piacermi proprio definitivamente, vuol dire che a me, io e GP, siamo incompatibili diciamo, questo appunto pubblicato da Cocconino, un bel cartonato, bello grosso, appunto praticamente costa 20€, mentre il secondo è un fumetto pubblicato dalla Thunue, scritto da Kurt Pires, non so se si pronuncia Kurt Pires, sì, Kurt, sì, cazzo, e David Robin, che è The Fiction, appunto pubblicato per Thunue al prezzo di 16,90€, è un fumettino abbastanza piccolo perché è un formato praticamente, sono i formati della BAO, quelli per i fumetti alla Image Comics praticamente, appunto che parla di questi ragazzi che si immergono nei veri e propri libri, entrando appunto in quella che è la narrazione dei libri, il tutto raccontato dalle pagine, dalle matite di David Robin, che è un disegnatore psichedelico, è molto all'estremo, diciamo, molto acido, molto particolare, devo dire, sono molto tentato di recuperare il suo Beewulf e il suo eroe, anche qua ci darò un'occhiata magari nei prossimi mesi, nei prossimi acquisti, magari tra Natale chissà che non scappi anche qualche recupero, e poi continuiamo con quelle che sono invece le uscite per quanto riguarda la fumetteria, con la ristampa per quanto riguarda R.V. Lion di Black Orchid, pubblicata da R.V. Lion appunto per la Vertigo Comics, questa mi pare che sia l'edizione della Library, se non sbaglio, adesso ve lo dico subito, anzi non mi perdo in tempo, sia la Vertigo Library, appunto pubblicato dall'R.V. Lion è un prezzo di 13,95€, un pochino alto, i prezzi dell'R.V. balla in una maniera mostruosa, non si capisce quanto, se ci sia una, come dire, uno standard di prezzo di edizione, qua è tutto a caso praticamente, una storia scritta da Neil Gaiman e disegnata da David McKinnon, che sono due grandissimi nomi del fumetto americano, in generale Neil Gaiman ha disegnato, ha scritto, scusatemi, Sandman, Nessun Dove, 1602, insomma, ne ha fatte di cotte di crude, mentre Dave McKinnon è un artista che personalmente apprezzo, mi piace molto come, diciamo, resa grafica, che appunto qua si trovano insieme in questa storia, di cui non so molto, devo dire, so solo che parla di questa ragazza, che se non sbaglio dovrebbe diventare una specie di esperimento genetico, trasformandosi appunto in un'orchidea nera. Però sono stato molto, molto intrigato da questa trama, così, se non sbaglio, banale, ma soprattutto appunto dei nomi, perché, ripeto, Neil Gaiman non è l'ultimo arrivato, diciamo, è uno dei mostri sacri del fumetto americano e mondiale in generale, per cui mi sono convinto a recuperare questo capolavoro, questo così chiamato capolavoro, tra l'altro è anche un'edizione nuova, perché è quella vecchia della planeta, mi paro comunque quella precedente dell'R.V., è andata completamente esaurita, quindi niente, sai che c'è? Prima che vado esaurita pure questa, me la recupero. E poi, solita carrellata di uscite Marvel, e poi passiamo per quanto riguarda l'edicola, la Marvel, come al solito, nelle ultime settimane sforna meno roba, infatti abbiamo il numero 7 di Wolverine, al prezzo di 2,90€, i nuovissimi Avengers 14 con Stand Off, al prezzo di 3,50€, e il numero 14 di Amazing Spider-Man, sempre al prezzo di 3,50€. E poi concludiamo con quella che è l'edicola, per cui ho comprato una sola uscita, ovvero il secondo numero di Farfdre è, penso che si pronunci così, è il Grey Mauser, una storia pubblicata da editoriale Cosmo, al prezzo di 4,90€, anche qua a prezzi un pochino tanto, troppo ballerini, per un'edizione che fondamentalmente è anche più piccola di un Bonelli del Normale, ed è però tutto a colori. Disegnata dal grandissimo Mike Mignola, il papà di Hellboy, che si, appunto, ispira a questa serie di storie, mi pare, scritte da Fritz Lieber, tra l'altro la editoriale Cosmo pubblica proprio in questo periodo, proprio in questi giorni, è uscito, mi pare, insieme a questo, anche quelle che sono le storie originali di questa serie di Farfdre e Grey Mauser, disegnata dall'altro da Walt Simonson, se non sbaglio, però ho deciso di non comprare perché, insomma, costano troppo, cosa mi pare, 5,50€, è poco più grande di questo fumetto, fondamentalmente non mi intriga più di tanto quel tipo di storie, mentre queste, cacchio disegnate da Mike Mignola, che è uno dei miei disegnatori preferiti, ho detto, vabbè, questi qua cedo molto volentieri. Il primo numero mi era piaciuto molto, è una serie molto interessante, un po' medieval fantasy, con questi due scapestrati guerrieri e ladri, che se la devono vedere, appunto, con queste gilde, con queste organizzazioni criminali in un medioevo fantasy, appunto, e se vi piace il genere, comunque, se siete amanti anche del disegno di Mike Mignola, sicuramente non vi deluderà questa storia. Fatemi sapere, come al solito, cosa avete comprato voi questa settimana, fatemelo sapere con un commentino qua sotto, fatemi sapere cosa pensate di questi acquisti, se avete già letto qualcosa, soprattutto se avete già letto La Terra dei Figli, mi raccomando, fatemelo sapere. Mi raccomando, anche prima di concludere il video, date un'occhiata sempre in descrizione dove trovate i link per acquistare questi e altri fumetti su Amazon, e qua a fianco, qui troverete i link per alcuni video e per i miei contatti, come potete iscrivervi al canale, oppure quello per poter andare alla mia pagina Facebook. Non ho nient'altro da dirvi, noi ci vediamo, spero, credo, sicuramente, domani per il video appunto su animali fantastici, dovete rovarli, e niente, poi ci vediamo, come al solito, settimana prossima con un altro video per polvere e fumetti. Ciao, belli!